Hello guys, benvenuti in questo primo video dell'anno riguardante il formato Edison e i suoi problemi. Prima di tutto metto subito le mani avanti, avvertendovi che non voglio sminuire il formato in questione, ma semplicemente vorrei esprimere, basandomi su dati oggettivi, quelli che, secondo il mio punto di vista, sono i problemi principali del formato. Quindi, cerchiamo di evitare litigi e battibecchi, che di becchi già ne vediamo troppi con Blackwing e VayuTurbo. Per chi non mi conoscesse, sono uno YugiTuber o per la precisione uno YugiBoomer che tratta principalmente argomenti Time Wizard, con profile ma anche unboxing di prodotti vintage ed in questo caso analisi del formato Edison. Potrebbe sembrare persino controproducente, dato che Edison è fra i contenuti principali del canale, ma proprio per questo motivo, e perché è anche un anno pieno ormai che ho dedicato al formato, posso fare le mie considerazioni. E infatti, secondo me, sono messi alcuni dei problemi a cui abbiamo dato meno peso perché colti dalla nostalgia sicuramente, ma soprattutto perché il formato Edison potremmo definirlo un formato prematuro perché è durato poco ai suoi tempi e non esplorato abbastanza. Quindi trovare i punti deboli del formato in questione all'epoca risultava un po' più difficile e fare un'analisi in retrospettiva in quel periodo non aveva molto senso. Caso che invece siate curiosi di tutti i motivi del successo della storia del formato, soprattutto vogliate iniziare a giocare il formato Edison, e vi siate trovati qui per sbaglio o per qualsiasi motivo, vi metto in descrizione e in sovraimpressione la mia guida dedicata al formato, su quali carte acquistare, come giocare, insomma tutte le informazioni di cui avete bisogno in merito al formato. Uno dei fattori di successo di Edison è la varietà che, però, frequentando meglio il formato, non è così tanto vario come possa sembrare, se si vede dal punto di vista agonistico, quindi quando si fa riferimento ai tornei di un certo spessore, come qualificazioni regionali o nazionali, insomma eventi del genere. Con questo voglio dire che la varietà che il formato permetterebbe, e bisogna assolutamente riconoscerla, non viene sfruttata al meglio e che i problemi si hanno nella parte competitiva del gioco. Infatti, da questo punto di vista, ci sono sempre gli stessi quattro mazzi in top per la maggior parte delle volte, ma anche delle partite in generale, che sono Blackwing, Bioturbo, Hero, Fragmonar, Aspam, e in continuazione, in un vortice negro. Sicuramente qualcuno di voi ora dirà, grazie a Arkha, Yugi è sempre stato così. Assolutamente sì, a primo impatto potrei darvi ragione. Alcuni mazzi infatti sono sempre stati una spanna sopra gli altri. Tuttavia, alcuni retroformat sfruttano meglio questo potenziale, come il formato AT, dove obiettivamente ci sono una ventina di mazzi da meta circa, ma soprattutto il formato Tengu Plant, dove i mazzi presenti e costruibili sono, penso, oltre la quarantina se non di più, e la differenza fra i vari tier e i vari mazzi è molto ma molto sottile e non così netta. Come per il formato Edison, caso che siate interessati ad introdurvi all'interno di uno o di entrambi i formati citati, controllate in descrizione le guide che ho realizzato in merito ai formati. E allora, come mai ha vinto Quickdraw in uno dei quattro mazzi citati? Qui azzardo la risposta. Diciamo che, secondo me, in Yugi conta un sacco il fattore sorpresa e Billy Brake ce l'ha insegnato bene nel 2011 con Tengu Plant. Questa, penso, sia una regola applicabile in ogni contesto del gioco vi è permesso. Infatti, portare mazzi di cui non si aspettano determinate giocate e non si conoscono alcune carte crea assolutamente un livello di difficoltà in più per chi gioca contro, rendendo arduo prevedere determinate giocate e di conseguenza questa giocata a favore di Quickdraw all'epoca. Un altro problema del formato Edison, secondo me, è la mancanza di counterplay. Mi spiego meglio. In presenza di carte come i Monarchi, ma soprattutto della priorità, l'assenza di alcune hands-up, ma soprattutto della possibilità di poter rispondere a mosse del genere, si sente parecchio all'interno del formato. Prima di continuare, per i giocatori magari del formato standard, modern, come vogliamo chiamarlo, mi soffermo un momento sul concetto di priorità. In cosa consiste? L'attivazione dell'effetto di un mostro può essere attivato durante la finestra di evocazione del mostro, facendo un esempio pratico. Il giocatore 1, dato che siamo in tema in un certo senso, vediamo chi la capisce, ha un mostro scoperto sul terreno e bottomle strappo il coperto. Arriva il turno del giocatore 2. Questo evoca il Chaos Sorcery, il Sorcio, o lo conosciamo come stregone del caos, e durante l'evocazione, dato che la sua evocazione non è stata negata, quindi non ha utilizzato, per esempio, il giudizio solenne, può attivare l'effetto in priorità, diventando quasi il primo anello della catena. Chainlink 1 in altri termini. In risposta, il giocatore A può attivare il bottomless trap hole, diventando così Chainlink 2. Quindi, quando la catena andrà a risolversi, lo stregone del caos sarà distrutto e bandito. Tuttavia, l'effetto dello stregone si risolve e andrà a rimuovere il mostro scoperto del giocatore A. Del giocatore 1, anzi. Come vedete, appunto, come avete visto, il concetto è molto semplice, ma ad impatto sulle vostre partite, tendo a precisarvi che ovviamente non è la stessa cosa come per Karius, o un altro Monarcho, insomma. Quindi, in vista di una meccanica e design del genere, non avere una risposta vera e propria all'interno del formato, nuoce, secondo me, all'esperienza complessiva di gioco, rendendola frustrante per certi aspetti. Mi rendo conto che molti giocatori di vecchia data preferiscono e apprezzino questa parte del gioco e l'assenza delle handtrap, ma, personalmente parlando, non mi sarebbero dispiaciute carte come l'Effect Veiler e il Max C, che, in un formato come Edison, sarebbero assolutamente bilanciate e farebbero lo stesso sull'esperienza complessiva del formato. Se in Goat esiste il concetto di Trinity, possiamo farlo anche per Edison. Scherzi a parte, andando più nel dettaglio, ci sono tre carte nello specifico che impattano notevolmente sul formato. La prima è la trappola a botola. Rispetto alle altre due che andrò a citare fra poco, è meno impattante, secondo me, ma allo stesso tempo potrebbe stabilire subito il risultato della partita. Tuttavia, è anche vero che è limitata e le condizioni di attivazione sono quattro o più carte in mano. Di conseguenza, ci si potrebbe passare un pochettino sopra e giocarci attorno, ma rimane in ogni caso una carta meno accessibile a chi vuole obiettivamente spendere il minimo possibile sul gioco, partendo dai 10 euro in su, se OCG, fino ai 20 euro se TCG. La seconda carta in questione è la Royal Oppression. Ultimamente c'è da dire che sia una delle carte che si vedono meno del solito, ma dal mio punto di vista semplicemente perché, come per la carta prima citata, è difficilmente accessibile e ha un range di prezzo che parte intorno ai 15 euro a condizioni decenti a salire. La carta in ogni caso è presente in molti dei mazzi che fanno top o vincono tornei ed in particolare nei mazzi T1 prima citati. E anche a causa di poche out come il tifone limitato, a game 1 è estremamente difficile da togliere. Per questo anche molte persone cercano di giocare Blackwing che, grazie a Icaro, può permettersi di fare dei meno interessanti, tra cui anche spaccare la Royal Oppression, che una volta in campo con un certo tipo di terreno non ti fa letteralmente più giocare. Ripeto, alcuni mazzi come Blackwing, ma anche Bioturbo, possono sfruttarla meglio. Perché Bioturbo? Perché semplicemente l'effetto di value di rimuoversi non è costo, quindi puoi applicarlo a spam e abusarne, quindi teoricamente non potrai mai negarlo con Royal Oppression. O meglio, puoi farlo a meno che tu non sia un kamikaze. Evitando di divulgarmi troppo sulla Royal Oppression, per me la carta più ridicola e forte all'interno del formato rimane e sarà sempre solo una ed è Brain Control. Letteralmente penso che la maggior parte delle partite le abbia perse per questa maledetta carta, soprattutto a top deck. Una carta accessibile, inseribile in ogni mazzo, trade-off ridicolo o, in termini più semplici, costo troppo basso per un effetto così devastante che permette di prendere un mostro scoperto ed obiettivamente farci quello che vuoi. Anche per fare, che ne so, un meno uno per un turno sul terreno dell'avversario e tendo a ricordare per chi non è esperto di Edison che difficilmente si hanno 4-5 mostri sul terreno ma in ogni caso puoi attaccarci, puoi tributarlo, rendendo i Monarchi ancora più forti in vista della presenza di questa carta, letteralmente penso sia la carta più forte all'interno del formato. Questo non solo è dovuto all'effetto ma perché esistono appunto poche out come dicevo prima o al giudizio solenne corruzione oscura settati sul terreno un book of moon o praticamente ciaone gg. Io ho questo ricordo indelebile ormai nella mia mente dove gioco contro Vaio Turbo che novità stavamo uno uno in qualche maniera sono riuscito a vincere una partita e avevamo entrambi zero carte in mano io avevo un drago sul terreno credibile giocavo drago caso che siate interessati andate a vedere la mia deck profile sul canale per la precisione avevo il famosissimo Parmalat e stavo anche bello parato contro Mirror Force perché appunto il turno dopo avrei pescato una carta quindi avrei potuto anche scartare per pararmi e tenere il drago sul terreno quindi difficilmente poteva andarmi sopra anche perché i Vaio erano tutti rimossi ad entrambi le bastava letteralmente un attacco per poter vincere avevamo circa 2000 life points se non erro lui pesca guarda la carta poi guarda a me e mi dice mi spiace mi gira Brain Control e GG e vabbè potresti dire vabbè ma ti basti su una sola partita no 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 non è stato una volta ed anch'io ho vinto varie volte boff nel dubbio Brain più adatto GG mio padre lasciando i miei scleri quotidiani penso di aver detto tutto inerente a quelli che secondo me siano i problemi del formato Edison scrivetemi qua sotto in maniera costruttiva se siete d'accordo o meno con quanto detto ma soprattutto quali secondo voi siano altri problemi che magari non ho analizzato detto questo smetterò di giocare a Edison? assolutamente no ripeto il mio non è un invito a non giocare a Edison ma semplicemente a riconoscere e prendere coscienza delle criticità che ci sono all'interno del formato e ho voluto esprimere quelli che sono i problemi dal mio punto di vista continuo a portare appunto contenuti questo YouTube continuo a giocare ripeto Edison è un bel formato e permette veramente tanta tanta libertà e barrieta se affrontato nel modo giusto Yu-Gi-Oh! in generale ha avuto i suoi problemi in ogni periodo passato presente futuro e sicuramente Edison è uno di quei periodi dove vi sono stati meno problemi oggettivamente e che ha garantito il successo del formato per un motivo caso che appunto vogliate giocare a Edison online ci sarà sempre anche il mio discord qui sotto in descrizione assieme a tutti i miei social siamo una settantina di persone sul server e periodicamente organizzo tornei dedicati ai vari formati quindi non solo Edison ma anche Hutt e Tenguplant e quest'anno ne faremo molti molti di più assicurato o semplicemente se volete consigli aiuto o compagnia il server è accessibile a tutti quanti quindi io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto vi ricordo sempre anche di lasciare un mi piace un commento e soprattutto di iscrivervi al canale caso che vi piacciono questo tipo di contenuti e niente inauguriamo abbiamo inaugurato quindi l'anno con questo video e ci vediamo presto a un nuovo contenuto che sia un unboxing o qualsiasi cosa inerente al Time Wizard o vediamo un po' One Piece per chi è interessato quindi arrivederci al prossimo video see you next time forse è meglio che non giochiate proprio uccelli grazie